Sembra una brutta barzelletta, ma va al di là del ridicolo. Se siete nuovi a questo canale vorrei dirvi che di solito le mie conclusioni vengono alla fine del video, per cui ti suggerisco di vedere tutto il video per avere il full impact, l'impatto completo. E se non l'avete fatto, sottoscrivetevi così vi arrivano anche le notifiche, ogni volta avviene un video nuovo, perché tanti di voi non riescono ad avere più le notifiche via telefono. Questo martedì il presidente degli Stati Uniti, Biden, ha organizzato una festa per festeggiare la riduzione dell'inflazione, anche se l'inflazione è ai 41 anni più alti mai avuti. Abbiamo avuto adesso l'8,3%. La cosa più comica di tutto è che mentre lui parlava durante i festeggiamenti, Wall Street, la borsa ha avuto il crollo più brutto sin dal giugno del 2020. E poi come se non bastasse la segretaria della stampa della Casa Bianca diceva no, non c'è inflazione, l'inflazione è piatta. Invece noi come cittadini poi ci troviamo ad avere questi aumenti, voglio leggervi, ce l'ho scritto qui. La spesa al 13,5% in più, l'energia al 15,8% in più, le spese sanitarie al 24,3% in più, il carburante 68% in più, e negli ultimi sei mesi, solo negli ultimi sei mesi c'è stato un aumento del 3% sui mutui, per cui i nostri tassi di interesse che ora sono al 6,1% sono i più alti dagli ultimi 31 anni. E le spese del governo continuano ad aumentare con il Green Deal che è assurdo, che compone quasi la metà del tasso di inflazione che abbiamo attualmente. E poi il Presidente vuole arruolare 87.000 nuovi agenti delle tasse. È quasi quanto l'esercito italiano. Perché? Perché devono fare rientrare tutte queste spese pazzesche che stanno facendo la Casa Bianca attualmente. Però tutte queste notizie apocalittiche non attaccano per niente il Presidente. Anzi, lui festeggia perché quattro settimane fa ha fatto diventare legge questo decreto d'abbattimento di inflazione, che non serve assolutamente a nulla. E tutti gli economisti lo stanno attestando. Sembra una brutta barzelletta, ma va al di là del ridicolo. Anche se la leadership attuale volesse far peggio, non penso che ci riuscirebbe. E tu magari mi vuoi chiedere, Peppo, ma che ha a che fare tutto questo con la foto che ho visto nell'icona o con il titolo del messaggio? Beh, settimana scorsa Jane ha comprato un filtro, un nuovo filtro dell'acqua, bellissimo filtro, che filtra tutte quelle sostanze chimiche che danneggiano il nostro corpo umano, come cloro, fluorurio, mercurio, alluminio, piombo, cromo. Sostanze che sfortunatamente sono presenti nei nostri rubinetti, qui in America, ma penso che sia la situazione a livello mondiale. E questo mi ha fatto riflettere nei momenti che stiamo vivendo oggigiorno. Forse in Italia le cose non sono così eclatanti, non sono così desperate come sono qui negli Stati Uniti, ma però siamo sempre circondati da notizie che vanno quasi al di là del fake news. Sono proprio bugie, chiare e tonde. Allora, come filtriamo ciò che può essere danneggioso o danneggiante, danneggiante alla nostra mente? Come reagire quando sentiamo o vediamo delle news e poi con i nostri occhi possiamo appurare una verità completamente diversa? I nostri leader sono arrivati a beffeggiarci così tanto da considerarci così stupidi o pecoroni? Quali sono i filtri che usi per formulare le tue opinioni? È un'ideologia politica o sono opinioni di famiglia dove sei cresciuto o sono delle opinioni di maggioranza che ti circondano? C'è una scrittura che vorrei leggervi in secondo Timotio, ci vogliono gli occhiali, al capitolo 3, versetto 16 e 17. La sua parola ha diversi scopi, uno di quelli è appunto di formarci nella maniera giusta. Il bello della sua parola è la saggezza, l'attualità, la profondità che ha, che va al di là di qualsiasi confine di tempo e di etnicità. Le notizie, i podcast, i film, anche la musica che ci circonda formano la nostra visione delle cose. E se non stiamo attenti a filtrare il tutto con un filtro giusto come quello della sua parola, rischiamo proprio di essere avvelenati a lungo tempo come si può essere avvelenati attraverso l'acqua del rubinetto, che a lungo andare può causare Alzheimer, demenzia, problemi neurologici, addirittura cancro. C'è un vecchio detto che dice, la sapienza ti insegna come costruire un ponte, ma la saggezza ti dice se devi costruirlo. La sua saggezza non solo ci aiuta ad identificare la verità, ma ci insegna a come reagire a ciò che ci circonda. E spesso, caro amico, questo vuol dire andare contro corrente. Romani 12,2 è una scrittura bellissima dove dice, non siate conformi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Il rinnovamento che accade come? Attraverso appunto la lettura della sua parola. Allora, vediamo che la nostra mente sia sanata attraverso il suo Spirito Santo e che i nostri passi vengano illuminati dalla sua parola. Grazie ragazzi di nuovo dell'ascolto, vi auguro un buon weekend e ci vediamo settimana prossima. Ciao!